Mentre alla conferenza di Parigi le nazioni sono catalogate in grosse e piccole in base a quantitativi criteri di potenza, a Venezia il festival internazionale del cinema come la biennale d'arte preannunciano nelle libere pacifiche gare delle nazioni il principio della qualità che sola può ispirare quella nuova civiltà per la quale hanno combattuto e sono caduti milioni e milioni di uomini. Accanto al festival cinematografico Venezia ha offerto ai suoi ospiti altre manifestazioni inquadrate nell'incantevole scenario dei suoi canali e delle sue isole. L'onorevole Gonnella, ministro dell'istruzione e l'onorevole K, sottosegretario alla presidenza del consiglio, giungono all'aeroporto di Venezia per l'inaugurazione della mostra del cinema. L'ingresso delle autorità e dello scelto pubblico al cinema San Marco nella serata inaugurale della mostra cinematografica. Un colpo d'occhio sulle autorità nella galleria del San Marco. Spente le luci, la mostra cinematografica inizia...